Dance Ability alla Scuola Apollo e Miloni Giudici di Gela, rivolta a tutti con l'obiettivo principale di sviluppare la creatività attraverso il movimento. Si svolgerà nella palestra dell'Istituto Scolastico di Vieniscemi, diretto da Giovanna Parazzolo. L'iniziativa è dell'associazione Il Tempio di Apollo, preseduta da Valeria Caci e sarà curata da Emanuela Ventura, ballerina. La Dance Ability appunto è un metodo di danza che viene applicato per persone abili e persone disabili. Lo scopo della Dance Ability è quindi quella di unire insieme le persone attraverso l'arte della danza. Non è richiesta avere alle spalle un'esperienza di danza, ma bensì semplicemente la voglia e la curiosità di stare insieme. Il corso appunto quindi non ha esclusione di nessun genere di persone e di età, è aperto ai bambini, è aperto ai grandi e alle persone semplicemente appassionate di movimento. Quindi è un invito a scoprire insieme a me, insieme a tutte le persone che saranno presenti, la bellezza dell'arte della danza. La Dance Ability è una tecnica che permette a persone abili e disabili di incontrarsi per danzare insieme attraverso un percorso di ricerca che sfrutta le abilità fisiche ed espressive individuali. La danza si sviluppa attraverso la tecnica dell'improvvisazione. Penso che sia una specialità che in Italia o almeno a Gela è un'assoluta novità. Felicissima io ho messo a disposizione una delle due palestre della scuola e spero che si iscriveranno molte più persone. Al limite se una palestra non basta le useremo tutte e due.